Da 17 al 19 aprile 2013 a Torino, all'ingotto in Vianizza 230, cornice e fieristica per eccellenza del capoluogo torinese, si è svolta la settima edizione di Affidabilità e Tecnologie, la più importante manifestazione specialistica in Italia che offre soluzioni e tecnologie utili per abbattere i costi e incrementare produttività e affidabilità. Formula fieristica di successo sin dalle prime edizioni, con una crescita espositiva del 20% all'anno, risultato in controtendenza rispetto alla media delle manifestazioni nazionali. Con oltre 210 espositori, 700 marchi rappresentati, 14 convegni, 15 seminari e oltre 6.000 visitatori di altissimo livello, decisori aziendali o responsabili di funzione, l'edizione 2013 conferma le due parole d'ordine, innovazione e internazionalizzazione. La nostra azienda è nata nel 1986, sono fuoriuscito Olivetti, e praticamente si occupa di soluzioni per il test di schede e moduli elettronici. Abbiamo filiali negli Stati Uniti, in Cina, Germania e Francia, siamo a Strambino, 30 km a nord di Torino, 135 persone, fatturato intorno ai 22 milioni l'anno scorso, siamo in crescita. Noi, essendo in Piemonte, abbiamo cercato di fare qualcosa anche nel nostro territorio. Tra l'altro in contemporanea abbiamo una fiera a Nuremberg e una negli Stati Uniti. Comunque noi non disdiciamo, appunto, come ho detto prima, il nostro territorio. Quindi abbiamo deciso di partecipare anche a questa fiera. Siamo già venuti l'anno scorso e abbiamo notato una buona presenza di pubblico e quindi abbiamo deciso di rifarla, insomma. Cerchiamo di dare le soluzioni al cliente, cercando di mantenere un costo che oggi è una cosa, diciamo, importantissima. La flessibilità rispetto ad altri concorrenti stranieri. Diciamo che cerchiamo di dare la soluzione chiave in mano. Diciamo che cerchiamo di dare la soluzione chiave in mano.